Torniamo sull'argomento che gli uomini non possono comunicare. Abbiamo già dedicato qualche altro video e audio a questo argomento. Abbiamo naturalmente sottolineato il fatto che si tratta di una formazione che tende ad allontanare dalla teoria, piuttosto che avvicinare interesse e offrire spunti di riflessione. C'è una sorta di rifiuto. Stiamo cercando però di chiarire in che senso Luhmann afferma che gli uomini non possono comunicare. Abbiamo fatto qualche esempio. Il punto è relativo alla distinzione tra sistemi sociali, sistemi psichici e sistemi biologici. Abbiamo visto e abbiamo detto. In questo modo però Luhmann ottiene anche un altro risultato. Da una parte avevamo accennato il fatto che in questo modo comunque non viene negato il fatto che senza l'uomo la società non può esistere. Senza l'uomo considerato come sistema biologico e sistema psichico, la società e quindi la comunicazione non può esistere. Uno. E però l'uomo in quanto sistema psichico e sistema biologico non fa parte della società, quindi come corpo e come cervello non fa parte della società, ma si trova nell'ambiente della società. La comunicazione, in altri termini, è altro. Questo afferma Luhmann rispetto a riproduzione cellulari, che è quello che avviene all'interno dei corpi, e il pensiero, i pensieri che si formano all'interno delle coscienze, o dei cervelli, o sistemi psichici, come li si vogliono chiamare. Quindi questa separazione dà conto di una differenza che è operativa. Comunicazione da una parte, riproduzione cellulare, pensieri dall'altra. Ma allo stesso tempo serve anche per separare ambiti disciplinari. Nel senso che in questo modo si dice anche che la sociologia si occupa della società come sistema della comunicazione e che l'uomo in quanto sistema biologico e sistema psichico non appartiene al campo di indagine della sociologia. Però attenzione, l'uomo non scompare in questo modo, pur facendo parte dell'ambiente della società, l'uomo in quanto tale rientra all'interno della comunicazione e quindi all'interno del sistema società come tema della comunicazione. Non è possibile parlare dell'uomo e questo è ciò che interessa, anche questo è ciò che interessa la sociologia e la teoria dei sistemi.